Per non perdervi nessun video del vaso di Pandora vi ricordo prima di tutto di iscrivervi al canale YouTube e di premere sul simbolo della campanella che vedete qui in sovraimpressione per ricevere una notifica all'uscita di ogni nuovo video. Ecco, cosa sta succedendo Grossi alla società civile che sembra diventata così apatica? Lei è piuttosto sensibile a questo argomento tra l'altro, giustamente? È tutt'altro che apatica la società civile. Noi abbiamo letteralmente dormito per molti decenni. Io ho dormito, probabilmente il 99% della popolazione per molti decenni ha dormito, cioè non si era assolutamente resa conto di cosa stesse succedendo. Rispetto agli anni 60-70, quando tutti partecipavano alla politica e la maggior parte delle persone lottavano per i propri diritti, negli anni successivi, nei decenni successivi è arrivato il benessere, accompagnato dalla crescita della finanza, soldi facili per tutti, investimenti a non finire, nuova tecnologia, nuove disponibilità, tantissime cose nuove. E noi letteralmente ci siamo distratti dalla politica. Abbiamo permesso che i corpi intermedi si svuotassero, abbiamo smesso di partecipare alla politica. Sono arrivate le televisioni private che hanno smesso di fare il servizio pubblico e ci hanno portato nel paese dei balocchi. Ci hanno portato nel paese dei balocchi a goderci i nuovi gadget, le nuove cose da comprare, i nuovi supermercati, la nuova vacanza, la nuova automobile, il nuovo computer, il nuovo telefonino. Smettetela di occuparvi di politica. Sono arrivati i talk show che ci hanno detto che la politica è una cosa sporca, una chiacchiera vuota e inutile, dove litigano fra di loro ma non parlano dei problemi del paese e poi invece ci sono i tecnici, i professionisti e noi la politica l'abbiamo delegata ai tecnici in un processo che ha portato questi tecnici in istituzioni sempre più lontane, Unione Europea, Fondo Monetario, BCE, oggi Meccanismo Europeo di Stabilità e questi tecnici per un po' sembrava che facessero funzionare le cose perché eravamo diventati tutti più ricchi, stavamo bene, quindi abbiamo abboccato con tutte le scarpe. nel frattempo sono cambiate tutte le leve di governo, quel potere che conoscevamo negli anni 60 e 70 è svanito e non sappiamo dov'è, letteralmente non sappiamo dov'è finito, pensiamo che sia in Europa ma non è in Europa, è andato direttamente nelle istituzioni finanziarie e questo pochissime persone lo capiscono. Ora non siamo più addormentati, quello che sta succedendo, il momento di lettura è stato proprio il 2011, fino al 2011 gli italiani erano convinti che la crisi era passeggera, comunque stavamo bene, nel 2011 ci è arrivata una mattonata in faccia che ci ha detto ehi voi state per fallire, ehi adesso si fanno le riforme strutturali, adesso si fanno i sacrifici e noi da bravi abbiamo cominciato a fare sacrifici ma piano piano abbiamo cominciato anche a mettere il naso in ma che sta succedendo? Fino a ieri eravamo ricchi e ora siamo falliti così da un giorno all'altro e così molte persone hanno cominciato letteralmente a studiare e si sono andati a studiare trattate internazionali che non ci hanno mai raccontato, non ce l'hanno mai detto che avevano tolto le leve di governo alla politica e le avevano consegnate a una finanza privata, non ce l'hanno mai detto questo. Le persone che stanno studiando scoprono queste cose e cominciano a raccontarle. Nascono realtà come la vostra, come i bio blu, come Sovranità Popolare che è la mia rivista, nasce il bisogno di raccontare una realtà che il sistema mediatico ufficiale non ci dice il sistema mediatico controllato dal potere economico, ci sono 4-5 grandi catene che controllano tutte le televisioni e tutti i giornali del mondo, due sole agenzie giornalistiche, Reuters e Associate Press che in realtà sono intrecciate fra di loro e sono controllate dalla famiglia Rothschild. Cioè l'informazione è in mano al potere economico che è felicissimo di tenerci addormentati. Ma la società si sta svegliando. Noi non ce ne accorgiamo se accendiamo quella televisione, ma questa realtà, i discorsi che ci stiamo facendo noi, oggi sono dappertutto. Oggi sono tantissime le radio private, le riviste private, le televisioni private, i canali YouTube, i blog, le associazioni che nascono come funghi e che hanno capito che tocca ritornare a occuparci di politica. Moltissime persone hanno mangiato la foglia, ma ancora non sanno semplicemente che fare, ma sono tutt'altro che apatiche. Adesso vediamo tra l'altro… Non so che fare. Ecco, adesso tra l'altro ritorneremo. Giancarlo, una volta c'era comunque una grande partecipazione con l'involgimento delle politiche. Io mi ricordo, faccio ancora tempo a ricordarmi degli anni 70, ero proprio un ragazzino, un bambino, ma che andassero in piazza a protestare un milione di persone non era difficile. Oggi un milione di persone non è immaginabile, insomma, no? Sì, sì, certo. Sul discorso che ha fatto adesso il dottor Grossi, ovviamente possiamo concordare perché è quello un po' che è accaduto in Italia. Io dico sì, ha ragione, ma il 2011 è stata la svolta perché abbiamo capito, ce l'ha fatto capire la Grecia, ma poi in un secondo tempo anche noi, abbiamo capito che era veramente il paese dei balocchi. Cioè, per la verità, io ho fondato il mio sito nel 2007, per me è stato proprio alla vigilia, diciamo, nel momento nel quale scoppiava la grande crisi economica finanziaria, no? Anch'io, anch'io i primissimi anni 2000, a parte la crisi famosa chiamata, insomma, crisi del Nasdaq, insomma, dei titoli di nuova generazione, no? Però forse quella del 2000 è stata una crisi perché quel disegno non era ancora stato completato bene, cioè, voglio dire, nel 2000 non era ancora nata Facebook, tanto per intenderci, anzi, senz'altro non era nato YouTube, si era un po' creata su questi titoli tecnologici una narrazione che poi invece è avvenuta successivamente. Quindi diciamo che 2007-2008 la grande crisi finanziaria, 2009 sembra che ci sia la ripartenza, quindi da parte nostra, ecco, qua c'è la grande diversità, cioè mentre fino al 2011 le cose vanno comunque di pari passo, certo c'è questa grande crisi economica finanziaria, ma è una crisi mondiale, mentre il 2011 è una crisi europea, sostanzialmente europea, cioè negli Stati Uniti si sente proprio minimamente questo, invece l'Europa entra in questa grave crisi. Quindi, ecco, questo sottolineerei soprattutto, cioè che nel 2011, è vero quello che dice il dottor Grossi, noi ci siamo svegliati da un sogno, no? Però noi europei abbiamo capito in quale lager c'eravamo, eravamo stati... Sicuramente...